Quando sta finendo quasi quasi l'aperitivo che vedi che tutti quanti hanno già guardato il tableau il tableau lo portiamo su Il navigatore alle 14.20 siete qua fantastico, molto bene grazie mille, a dopo, ciao 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 Il sole è proprio qua al centro, è fantastico che illumina proprio il castello, è bellissimo tipo questa, 40 centimetri e 4, perfetto va bene grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti